Va bene, gente. Vi dirò che cosa ne pensa Barba Nera. Voi mi chiedete se questo nuovo capitano può offrirvi una vita di razzia, bottino e avventura? Sì. Perché di tutti i capitani che solcano le acque delle Indie occidentali, è certamente uno tra i più scaltri. C'è stato un tempo in cui credevo di essere il peggior flagello di questi mari. Ma costui è un cane rabbioso, assetato di sangue e saccheggi. L'ho visto devastare il ponte di un galeone spagnolo come se niente fosse. E combattere come posseduto dal demonio. È molto astuto. Conosce alla perfezione ogni scoglio e ogni grotta di queste isole. E se è gloria e avventura quel che cercate, Allora il capitano Edward Kenway è l'uomo giusto. Solo non figgate il naso nei suoi affari. Quell'uomo nasconde un segreto che io stesso non voglio sapere. Che io stesso non voglio sapere.